E' diventato virale su internet un video che ha letteralmente commosso il web dove si vede appunto una nonna con l'Alzheimer che dà a riconoscere solo per un attimo, solo per un secondo di tempo, la amata nipote che le stava dando da mangiare e le avrebbe detto ti amo. Il video in questione è stato postato nei diversi social network in poco tempo e è diventato virale e si tratta di un vero e proprio elogio, esaltazione a quello che è l'amore per come lo conosciamo noi tutti. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Al momento non si sa come si chiama né la nonna con l'Alzheimer né l'amata nipote però faccio sapere che il video, ripeto, che ha letteralmente colpito un po' tutti, nessuno escluso. Grazie, un salutone e al prossimo video da Narattore Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.